Carl Matthews non c'entra, non può essere il nostro uomo Cosa te lo fa pensare? In Florida era un semplice mozzo, qui invece il vigilante di un porto Ah, non poteva congegnare tutto questo Magari è più intelligente di quanto sembri sulla carta E i soldi? Come ha potuto permettersi l'intervento di Penn? Avrà fatto una rapina, o magari spacciava droga, io non lo so Chissà cosa ha fatto quando è sparito dalla Florida A proposito della Florida, vive lì, poi scompare Non viene mai arrestato, qual è il possibile nesso con Lenny ed Esposito? Non abbiamo tutte le risposte, perlomeno non ancora a caso Ma tutte le prove conducono a Matthews E sono d'accordo, credo solo che non agisca da solo Per me ha un complice Chi? La dottoressa Neiman? No, qualcuno che già conosciamo Il triplo omicida, ti ricordo che è morto Credi? E se trovassimo il nome di Matthews nei suoi fascicoli? Jerry Tyson è precipitato nell'acqua da un ponte alto 30 metri Il cadavere non si è trovato Sopravvivere a quella caduta è impossibile Non per Jerry Tyson Castle, ascolta, non c'è un briciolo di prova che Tyson sia ancora vivo Figuriamoci che sia coinvolto in questo caso Tyson non lascia prove, a meno che non voglia essere trovato Come la foto cancellata Niente prove, è una pianificazione meticolosa È un classico del triplo omicida Tutto questo è opera sua Castle Sai qual è un altro classico del triplo omicida? Giocare con le somiglianze fisiche E usare un complice che agisca in sua vece Andiamo, non lo vedi? Quello che io vedo è il tuo senso di colpa Qui non si parla di me Tyson ci aveva raggirati tutti quando era scappato Ma tu ti sei sempre dato la colpa Perché è stata mia la... È lui È Jerry Tyson Non inseguire un fantasma, Castle Fidati, non ne vale la pena Detective, i fascicoli del triplo omicida sono spariti Che vuol dire spariti? Tutti quanti? Come? Qualcuno del distretto li ha richiesti Chi? Hai preso quei fascicoli? No, io non ho preso niente Deve esserci uno sbaglio Oh mio Dio Potreste dirci che sta succedendo? Era l'ufficio dei nostri medici legali Le analisi di laboratorio I referti e i campioni di DNA Di ogni presunta vittima del triplo omicida Sono stati presi Da Lenny Ma non dalla vera Lenny È tornato quello psicopatico Questo spiegherebbe i sosia E perché Santos parlasse come me? Sparire non gli bastava Voleva far sparire anche i suoi omicidi E non solo le prove Ma anche le informazioni sul modus operandi La scelta delle vittime Tutti i dettagli che completano il suo profilo psicologico E che possono suggerire dove si trova Si è ripulito la fedina La scelta delle vittime